What can I do when I'm living for so well? No, I can't do it Radio Ashton Smith, tutto il giorno con te ud Florian Piebergi, li trovi qui su questa frequenza scopri e riscopri il passino della radio in mondo questa è un radio studio istra per il giorno a Costa Toscana 1485 kg a resto e provincia 1584 kg la prima radio italiana in AMS www.radiosidiorista.it sono le 23 e 23 minuti e si chiede un sms al numero 334 21 40 505 visita il nome dell'autore asterisco il titolo del brano e troverai un sms di consegno ciao sono Sabrina vi aspetto tutti i giorni da lunedì al venerdì alle ore 10 e 30 con il mio programma Buongiorno in Musica ciao sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X ciao un abbraccio ciao